Gaetano Leucci del Comitato Taranto Futura, referente per il referendum della Magna Grecia per il passaggio di Taranto in Basilicata. Leucci, un contatto continuo con la gente ai banchetti per la raccolta delle firme. Che aria tira? Che cosa si percepisce? Beh, innanzitutto devo dire che è un'esperienza splendida avere il contatto diretto con le persone perché si accontezza del disagio che provano i cittadini e della scontentezza che hanno per le varie difficoltà che Taranto incontra giorno per giorno. Quindi sostanzialmente noi siamo veramente soddisfatti in primis perché stiamo facendo questa splendida esperienza, quindi stiamo girando anche la provincia sostanzialmente quindi abbiamo diversi contatti con la popolazione e capiamo le problematiche che affrontano giorno per giorno perché si confidano con noi sostanzialmente. E poi stiamo avendo contezza che pian piano la gente si sta avvicinando da sola senza che noi facciamo più di tanto propaganda. Questa è una cosa molto importante perché sostanzialmente noi non siamo stati tanto aiutati né dalla stampa né dalle istituzioni, ma abbiamo fatto tutto in maniera artigianale, sfruttando i social, Facebook, Youtube e quant'altro. Quindi condividendo con gli amici, invitando la popolazione a sollecitare le amicizie che non avevano addirittura al progetto dell'avvocato Nicola Russo e pertanto spiegandoli e facendoli assumere contezza quali erano i vantaggi laddove ci fosse il raggiungimento del quorma per poi arrivare al referendum. D'altronde il nostro è un territorio sempre più oltraggiato sotto tutti gli aspetti, sotto quello ambientale, sotto quello infrastrutturale. Si comprende bene che ormai Taranto in Puglia è la cenerentola, e quindi se Taranto e i Tarantini vogliono avere un futuro occorre emigrare. Sì, in effetti sì, io non riesco a capire ancora come mai la gente dica io sono pugliese e pertanto voglio rimanere pugliese. Si dovrebbero capire un po' di più i vantaggi che si avrebbe laddove riuscissimo a transitare, aggregarci alla regione basilicata e non più il vantarsi di essere pugliesi, perché noi in prima siamo Tarantini, proveniamo dalla Magna Grecia, quindi è importante questo concetto qui. Io onestamente da cittadino Tarantino, anche se sono stato fuori per motivi di servizio perché sono un ex militare, da cittadino Tarantino dico che è più importante recepire quali sono i vantaggi laddove riuscissimo ad aggregarci alla regione basilicata che vantarsi di essere pugliesi. Grazie. Grazie. Grazie.